Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. La presenza delle mamme dei ragazzi autistici nella riunione dell'ultimo coordinamento istituzionale ha scosso gli animi. In attesa dei servizi sociali destinati ai loro figli, c'è stato l'impegno unanime dell'Assemblea a far presto. E pensare che dal 7 settembre scorso, giorno della visita a Piazza del Popolo dell'assessore regionale Fortini, è trascorso più di un mese inutilmente. 30 erano i giorni entro cui i consigli comunali avrebbero dovuto già deliberare la nuova forma associativa per gestire bandi e servizi finanziati lautamente da Europa e Regione. Purtroppo è accaduto che nell'elenco della delibera partorita mancasse uno dei 17 comuni dell'ambito più travagliato al mondo in tema di assistenza alle fasce deboli. Quell'errore materiale avrebbe potuto generare nullità degli atti, ma finalmente all'errore si è posto rimedio. Da ieri il nuovo verbale del coordinamento, riveduto e corretto, è pubblicato all'albo pretorio del piano di zona. I comuni si sono impegnati in dieci giorni ad approvare le pratiche per non disattendere gli impegni giuridici oltre che morali assunti. Ha già adempiuto al compito il comune di Altavilla-Erpina. Il delegato ai servizi sociali Camerlengo conferma Il Consiglio ha approvato la delibera avendo evidenziato e fatto salvo l'errore materiale. Non c'è più un minuto da perdere. Per le beghe del capoluogo prosegue Camerlengo. I servizi vanno attivati a tutti i costi. Personalmente, conclude, non escludo la possibilità di adire vie legali se dovessero registrarsi nuovi stalli. Il messaggio è rivolto in particolare ad Avellino. Spetterà infatti a Ciampi ed ai gruppi consigliari, oltre che agli altri comuni dell'ambito, approvare entro il 18 ottobre la nuova azienda consortile. Già serpeggiano malumore a Palazzo di Città. Il punto chiave è il peso ridimensionato che Avellino avrà nella futura organizzazione. L'aula potrebbe apportare delle modifiche al regolamento che tutti i comuni però dovrebbero poi condividere. Si tornerebbe insomma a punto e a capo. Più probabile, in caso di fumata nera, che la regione smembri il piano di zona, ma sarebbe solo altro tempo perso, solo un altro schiaffo alle mamme e dai ragazzi autistici.